Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Matteo Renzi disdice un viaggio che aveva programmato a Parigi per martedì. Questo è l'indice che qualcosa sta per succedere, qualcosa succederà. Intanto il vertice tra Conte e i capi delegazione sul recovery plan non sarà oggi risolutivo perché Renzi ha rilanciato sul MES. Il premier ci dica sì o no, visto che non ci ha risposto. Quindi sembrerebbe che Renzi stia cercando di svincolare dal recovery, visto che Conte sistema il recovery, allora puntiamo su un'altra cosa. Quindi Renzi sta puntando a far accadere qualcosa, non vuole realmente risolvere le cose perché se Conte ha preso tempo anche per rifare il recovery, andare parzialmente incontro alle cose che ha chiesto Renzi, parzialmente per non tutte, Renzi già sta puntando su un'altra cosa. Quindi la tattica continua. La convocazione della direzione servirà allo Stato Maggiore del PD per compattare un partito attraverso e attraversato da forti malumori. Beh, da ieri si capisce che c'è uno stallo nella trattativa. Dopo un colpo Italia Viva era rimasta isolata. Saltati i contatti con il PD con i grillini e ovviamente con Palazzo Chigi. Da dove arrivava questa bozza del recovery plan e l'avviso che entro 24 ore si sarebbe tenuto il vertice di governo. Un messaggio all'interno del governo, un messaggio al di fuori, con poi l'avvertimento di Bettini, del PD, che spiegava come ci fosse ormai poco tempo che il Premier non si tocca e se qualcuno rompesse sarebbe il Parlamento e poi eventualmente l'elettorato a decidere se Conte dovrà continuare a lavorare al servizio della Repubblica. Quindi l'elettorato significa il voto. Quindi fanno trapelare l'ulteriore minaccia del PD a Renzi. Guarda che se c'è una crisi e fai saltare Conte, noi probabilmente possiamo dire a Mattarella che non ci stiamo ad andare avanti. Ricordiamoci che se c'è una crisi e Mattarella apre le consultazioni e uno dei partiti di maggioranza dice il PD, i grillini no, non lo possono dire, come dice Di Maio non ce lo possiamo permettere di andare alle elezioni, non ce lo possono permettere, sarebbero disoccupati. Se il PD dovesse dire a Mattarella noi non siamo per continuare con questo governo, andiamo alle elezioni, Mattarella non potrebbe far nascere un governo come dice Renzi, dovrebbe sciogliere le camere e indire nuove elezioni. Marzo, aprile, maggio, ecco, entro luglio, entro il semestre. Bianco. Stanno cercando di metterci paura con i responsabili, è la spiegazione di Renzi ai dirigenti del suo partito. Voi sapete che i responsabili sono quella sorta di mercenari che cambierebbero partito per avere un posto di lavoro nella prossima legislatura perché nel loro sanno che o non li vogliono o non saranno rieletti per altri motivi. Si dice che Conte stia cercando questi mercenari, gliene mancherebbero solo sei, ma altri dicono che ha già trovato, ha già trovato le persone che lo sosterrebbero. Certo un governo sostenuto da dei mercenari che duri altri due anni è un po' curioso. E dicono così i Renziani, se il premier mira la Conte in Parlamento per poi andare alle elezioni, vorrà dire che per lui in futuro ci saranno solo le lezioni universitarie. Quindi a un certo punto potrebbe Conte anche fare carachiri, dire andiamo a contare, non ho i voti, va bene, che salta tutto e vediamo che cosa dice il Quirinale. Andiamo alle elezioni, io divento capopolitico dei 5 Stelle o mi faccio il partito e così vediamo chi vince in un futuro. E quindi Renzi che ha capito che probabilmente il governo ha trovato dei mercenari ha paura di rimanere con niente in mano. Ma se Renzi voleva fare e far cadere il governo avrebbe dovuto farlo all'improvviso senza dire niente? Una mattina telefonava a Conte, diceva il governo è finito, lo dichiarava ai giornali e i responsabili all'improvviso sarebbe stato più difficile trovarli perché Conte avrebbe immediatamente dovuto aprire un partito e chiedere a questi mercenari prima del voto di fiducia alle camere se volevano passare con lui, insomma era tutto molto più veloce. Adesso Renzi annunciando questa crisi da una settimana, due settimane, capite che sta dando modo alle persone di trovare delle soluzioni e di alzare gli scudi contro di lui o verso di lui. E poi dice così Renzi, se il premier mira alla Conta in Parlamento per poi andare alle elezioni vorrà dire che per lui in futuro ci saranno solo le elezioni universitarie e la politica andrà avanti. Ora daremo la risposta che si meritano. Così Italia Viva pubblica una nota con cui chiede a Conte di lasciare la delega per i servizi, specificando che va fatta chiarezza sulle visite a Roma di William Barr. Ecco, attenzione, qui si vede un qualcosa di strano. Allora, sul recovery il governo lo ha rielaborato cercando di andare incontro alle richieste di Renzi. Quindi Renzi che vede il recovery mezzo sistemato punta adesso sul MES e sulla delega i servizi segreti. Quindi si capisce che a lui non interessa il merito delle cose ma sta cercando qualcos'altro. E poi attenzione, sta dicendo al premier, togliti la delega, lascia la delega sui servizi segreti perché dobbiamo fare chiarezza su quello che hai fatto in passato. Ecco, lì c'è una minaccia. Lascia la delega perché dobbiamo andare a indagare su quello che hai fatto nell'estate del 2019 quando il generale dell'amministrazione Trump, William Barr, fu incontrato dai servizi segreti italiani. E quindi attacca il presidente del Consiglio ripescando l'oscura vicenda che ruota attorno al Russia Gate e alimenta da tempo le voci sui rapporti tra il presidente americano uscente e Giuseppe. Era il segnale che il leader d'Italia Viva non accetta di piegarsi alle richieste per la nascita di un Conte 3. Quindi vede risolversi il recovery e allora punta su altre cose, cercando di mettere nell'angolo il Giuseppe in modo che non possa dire di sì perché gli sta dicendo, lascia la delega che andiamo a indagare su quello che hai fatto nel 2019. Questo è quello che dice Renzi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.